Nell'incontro di stasera ho parlato soprattutto di due cose, una è un genere che è il racconto, la forma breve, e l'altra è uno dei grandi temi trattati dalla letteratura, dal cinema, che è la morte, in maniera curiosa. Ho cercato di dargli una dimensione non troppo macabra, ho iniziato con una delle prime raccolte di racconti, che è un'antologia che ho amato da piccolissima, ed è una raccolta di racconti horror, ho cominciato a parlare di un racconto in particolare contenuto lì, di David Keller, che si chiama Incantina, e poi sono passata ai grandi maestri del racconto, della forma breve, soprattutto americani. Ho parlato di Carver, ho parlato di Hemingway, ho fatto vedere un estratto da un film che amo molto, che è American Beauty, che parla sì di morte, ma anche di bellezza, di grazia, e da lì mi sono ricollegata a altre storie che parlano di questi temi. Una è a campo indiano di Hemingway, ho letto un brevissimo estratto della strada di Cormac McCarthy, e ho concluso con il racconto Una pallottola nel cervello di Tobias Wolff.